buongiorno ragazzi oggi parleremo delle fonti delle obbligazioni innanzitutto l'obbligazione deriva dal latino ovviamente ob ligare cioè legare insieme legare fortemente o perché ob ha vari significati per cui un significato rafforzativo qui legare fortemente appunto oppure potrebbe avere un significato di legare a causa di o al fine di fatto sa che il termine sta a significare appunto di obbligazione che una persona è legata fisicamente al creditore per cui infatti inizialmente l'obbligazione nella caratteristica l'obbligazione è che il debitore o chi per lui in particolare un garanto, una terza persona che garantiva per cui era fortemente legata al creditore, era vincolata, era addirittura in catena e veniva liberata solo se diciamo se veniva adempiuta, veniva adempiuta quella determinata circostanza quindi se quella prestazione veniva fatta quella determinata prestazione quindi un vincolo materiale immediato a questo vincolo dalle due tavole in poi comincia a profilarsi la possibilità di un vincolo solo eventualmente materiale per cui la persona è libera e se non adempi si agisce in giudizio e si costringe si prende con la forza il soggetto e si prende un vincolo ideale, c'è un vincolo per cui non anche se in caso di inadempimento non si adempia quella prestazione per cui si è costretti ad adempiere non c'è una ripercussione sul soggetto fisico, sulla persona fisica ma sul suo patrimonio per cui diventa un vincolo ideale non più un vincolo materiale ma questo col tempo. Quindi ripeto si passa da un vincolo materiale immediato un vincolo materiale potenziale a un vincolo ideale, un vincolo ideale quindi con Giussiniano c'era ovviamente solo il vincolo ideale ma già molto prima quando non c'è più la Manus Iniexio, non si agisce più in giudizio diciamo per vedersi assegnato il debitore ma si preferisce aggredire i beni quindi la banorum vendizio, la vendita dei beni per cui il soggetto non è più materialmente vincolato. Un vincolo ideale in base al quale noi siamo costretti a necessità da adempiere a fare qualcosa o dare qualcosa a qualcuno e secondo quello che è il nostro diritto e questa è una definizione appunto che può essere valida in un certo qual modo ovviamente anche nel diritto attuale. Il diritto attuale quindi per termine obbligazione si intende un diritto relativo, rapporto relativo quindi non un rapporto assoluto, quindi un rapporto relativo a contenuto patrimoniale. Ora Gaio ci indica nelle istituzioni che le obbligazioni può derivare o da contratto o da delitto, quindi o da contratto lo intende atto licito e delitto lo intende atto illicito, quindi un'obbligazione può derivare ripeto o da secondo Gaio nelle sue istituzioni o da un atto licito o da un atto illicito, contratto o delitto. Quindi c'è una bipartizione delle fonti dell'obbligazione e l'obbligazione da contratto possono essere di quattro tipi, ci dice Gaio. Un'obbligazione verbis contratta, cioè contratta mediante l'uso di parole solenni, verbis, quindi mediante un contratto chiamiamolo verbale, poi può essere un'obbligazione litteris contratta, cioè un'obbligazione litteris contratta, cioè contratta mediante l'uso della scrittura, che è il documento scritto, quindi mediante contratto letterale, obbligazione recontratta, cioè un'obbligazione mediante recontratta, mediante la consegna della cosa, quindi recontratta significa mediante consegna, cioè che si costituisce mediante consegna della cosa, e un'obbligazione consenso contratta, c'è un'obbligazione consenso contratta, c'è un'obbligazione che diciamo contratta mediante il semplice consenso, in qualunque modo manifestato, quindi derivante da contratto, l'obbligazione derivante da contratto può derivare o da contratto verbale, o da contratto letterale, o da contratto reale, o da contratto consensuale, quindi mediante l'uso di determinate parole solenni, mediante la scrittura, mediante la consegna della cosa, e mediante il semplice consenso. Per quanto riguarda quindi i contratti verbali, il contratto verbale per antonomasia è la sponzio. La sponzio si tratta di un contratto antichissimo, cioè un negozio antichissimo, che però, diciamo dal punto di vista giuridico, viene riconosciuta e tutela a questo tipo di di negozio, questo tipo di atto, probabilmente solo con le 12 tavole. Le 12 tavole infatti introducono un processo a parte, un processo diciamo specifico, che è un tipo di legisaxio, che è la legisaxio per i giudicis postulazione. Quindi per i crediti derivanti da sponzio si agiva mediante questa legisaxio. Probabilmente prima non era tutelato giuridicamente, secondo alcuni era tutelato mediante la legisaxio per sacramentum impersonam, ma anche se fosse comunque sicuramente non è dalle origini che viene tutelato, ma siamo comunque intorno al quinto secolo, forse inizio o a metà, se si tratta delle 12 tavole o inizio se viene tutelato anche prima, ma non prima. Ma la sponzio c'è sempre stata, c'è sempre stata dalle origini, però aveva solo un valore forte, valore sociale, religioso, perché comunque si tratta di una promessa solenne, ma non giuridico. Per cui se si prometteva e non si arrempiva la promessa, dal punto di vista sociale era qualcosa di riprovevole, dal punto di vista giuridico magari l'ira degli dei, ci sarebbe stata l'ira degli dei, ma giuridicamente non si poteva fare nulla. Questo almeno per quanto riguarda fino alle 12 tavole, con le 12 tavole giuridicamente si era costretti ad adempiere a questa sponzio. Sponzio che colpa sere e tempo viene anche stessa ai cittadini, ai stranieri, prima era possibile solo ai cittadini romani, ma anche ai stranieri, però non potevano usare il verbo sponzio, potevano usare il verbo promitto, che era ovviamente sinonimo, ma non sponzio. E comincia quindi a chiamarsi non più sponzio, ma stipulazio, quindi la stipulazio praticamente deriva dall'antica sponzio. Su questo ci sono varie teorie, ma probabilmente c'è questo passaggio antica sponzio a stipulazio quando finna stessa ai peregrini, ai stranieri. Sponzio aveva la caratteristica della domanda fatta dal creditore al debitore, prometti tu ad esempio di darmi 100, prometti tu di dare lo schiavo? E il debitore rispondeva prometto. Una risposta che doveva essere immediata, congruente, e bisognava utilizzare lo stesso verbo utilizzato nella domanda. Quindi se io uso il verbo promitto non posso usare il verbo come risposta a un altro verbo, oppure perché no, certamente, dovevo usare il verbo usato dal creditore. E occorreva che il creditore facesse lui per primo la domanda e il debitore dovesse rispondere. Cioè non valeva che il debitore andava dal creditore dicendo ti prometto di dare 100, il creditore accetta. Occorreva la domanda del creditore e la risposta del debitore. Perché questo? Perché quando il debitore si obbliga rischia la vita, rischia la vita perché se non adempia ci sarebbe stata la manussinectio, quindi la presa corporale e se non si riusciva a riscattare nei tre mercati consecutivi nell'arco dei 60 giorni successivi all'addiccio, c'è l'assegnazione da parte del magistrato del creditore, cioè del debitore accreditore, se non veniva riscattato lo si poteva vendere oltre il tevere come schiavo oppure lo si poteva addirittura uccidere. Per cui attenzione, il debitore tutti stai impegnando. Ora il fatto che si escluda l'opposto, cioè che il debitore andava dal creditore dicendo io mi impegno, il creditore accettava, è dovuto proprio a questo, cioè al fatto che il debitore deve essere certo, senza ombra di dubbio, che si sta impegnando. Perché immaginate che io siamo in una festa, siamo in una festa, io vedo che si è fatto tardi, siamo rimasti solo io o è un'altra persona, l'altra persona abita molto lontano da me, io l'indomani mi devo svegliare presto, vedo che l'altra persona sta in difficoltà nel senso che non ha la macchina e mio malgrado chiedo al soggetto quindi se ha bisogno di un passaggio, sperando in cuor mio che lui dica di no. Dica di no perché ovviamente si tratta di che sta molto lontano, io devo svegliarmi molto presto, già si è fatto tardissimo, mi sento obbligato per titolo di cortesia e chiederlo, ma spero vivamente che dica di no, così me ne vado a dormire. E quindi io mi sto offrendo, ma in realtà non sono certo innanzitutto che lui accetta, ma spero che lui non accetti. Per cui non sono sicuro al 100% di obbligarmi. E questo non può accadere, proprio per quello che vi ho detto, cioè che l'obbligazione porta alla morte, può portare alla morte. Per cui nel momento in cui invece il creditore mi fa la domanda e io rispondo di sì, cioè che prometto di fare quella cosa, io in quel momento in cui rispondo mi sono obbligato e lo so perfettamente che mi sono obbligato. Quindi senza ombra di dubbio. Una risposta che deve essere immediata, contestuale, però che succede? Se lui mi fa la domanda, io ci penso un attimo, ci rifletto e dopo un'ora o due do la risposta affermativa. Vale? Inizialmente no, deve essere immediata, però i giuristi ritennero che potesse valere sempre che non fosse passato ad altri affari. Cioè non deve fare nulla, ci deve pensare, ci può anche pensare, può anche darla non immediata la risposta, però se fa un altro affare significa che l'attenzione si è distolta e quindi non vale. Quindi deve essere immediato quantomeno, diciamo ovviamente, diciamo abbastanza velocemente, deve essere data la risposta e comunque non può essere data, cioè non vale se è passato debitura ad altri affari nel frattempo e quindi si è distolta l'attenzione. Questa sponzio venne utilizzata, questa sponzio, questa stipulazione, questa promessa solenne, viene utilizzata diciamo per vari, anche per altri scopi, in particolare, viene utilizzata per la, a titolo di garanzia, a scopi di garanzia, cioè accanto al debitore principale promettevano anche altre persone. Cioè il debitore che deve fare la prestazione ovviamente si obbliga, promette, ma promette anche una terza persona che non è quella interessata direttamente al, al, diciamo al rapporto, ma è una persona amico, un parente del debitore che promette assieme al, al debitore. e questo è, si chiama, diciamo questo utilizzo della, della stipulazio a scopi di garanzia, si chiama sponzio, cioè l'antica sponzio, cioè il nome dell'antica sponzio, però viene limitata in questo caso, quindi quando c'è il passaggio a sponzio a stipulazio, viene limitata, la sponzio ha una stipulazio a scopi di garanzia. e oltre alla sponzio abbiamo la fide promissio che, eh, è, diciamo, eh, la garanzia per, fatta, eh, dai, per dagli stranieri. Col termine fide prometto viene estesa quindi a questa sponzio anche agli stranieri, questa sponzio a sicurazio a scopi di garanzia anche agli stranieri, quindi sponzio e fide promissio. E poi c'è la fide iussio, un istituto successivo, stiamo intorno al primo secolo a Anticristo, che, eh, sempre orale, che, eh, diciamo, il, ehm, il, che ha delle caratteristiche un po' diverse rispetto alla sponzio e fide promissio perché questa è sempre a scopo di garanzia, ma garantisce non solo il, eh, un credito derivante da stipulazio, quindi orale, ma può garantire anche il, eh, a qualunque credito, derivante anche addirittura da un atto illecito. E quindi ha, eh, comunque, un, è comunque un utilizzo della stipulazio a scopo di garanzia. Poi vi sono anche altri utilizzi, ma, eh, andiamo avanti perché, eh, il tempo scorre. Ora, oltre alla, alla questa, eh, diciamo, la stipulazio, diciamo, utilizzi la stipulazio, un altro contratto verbale importante era, eh, la, la prediatura e la vadiatura, cioè i predes e i vades. Chi erano i predes e i vades? I predes erano, e i vades erano dei garanti sempre, processuali, in particolare di predes, abbiamo i predes sacramenti, cioè quei garanti, quelle persone che garantivano il pagamento della somma sacramenti, cioè della somma del sacramento, da parte dei contendenti, eh, in una lite processuale. Per cui, attore convenuto fornivano delle persone, quindi delle garanti, che promettevano di pagare la somma sacramenti nel caso di soccombenze, nel caso in cui la persona che avessero garantito soccombeva in giudizio. Questi sono i predes sacramenti, ma abbiamo anche i predes, diciamo, litis et vindicarum, litis et vindicarum, cioè i predes della lis, cioè della cosa controversa, e delle vendisce, cioè i frutti. Perché la cosa controversa potrebbe, nel, diciamo, nell'emore del processo potrebbe far nascere dei frutti. Ad esempio, un cavallo incinta nasce un puledro da un cavallo. E quindi, che cosa succede? Succede che c'erano, ci sono queste garanti che garantivano la restituzione della cosa e dei frutti della cosa, nel caso in punto di soccombenza, da parte del soggetto a cui veniva affidato momentaneamente il possesso dell'oggetto controverso. Cioè, si andava davanti al magistrato, si presentava questo oggetto, il magistrato doveva assegnarla a uno dei due momentaneamente la cosa, per poi andare nella fase acud judicem dal giudice, ma momentaneamente questa cosa deve essere affidata a qualcuno, o all'attore acconvenuto. Quindi, la sceglieva, o all'attore acconvenuto, il quale doveva presentare, appunto, dei garanti che garantivano la restituzione alla controparte in caso di soccombenza. Cioè, se quella a cui aveva affidato momentaneamente la cosa soccombeva, avrebbe dovuto restituire la cosa al legittimo proprietario e c'erano questi predes, gli T720 avevano questo scopo, cioè di garantire questa restituzione. E, diciamo, si garantivano in che modo, cioè come si diventava preides e vales, non sappiamo precisamente come, ma probabilmente attraverso, appunto, una dichiarazione formale. Se tu press, sono press. Cioè, il magistrato chiedeva se lui era press e il soggetto rispondeva di sì, che lui era press. E poi i vales, i vales erano sempre dei garanti processuali che garantivano la ricomparsa del soggetto in un'altra data, la ricomparsa in giudizio, ovviamente, al soggetto in un'altra data. Cioè, se doveva, si chiudeva, calava la sera e si doveva portare, diciamo, si doveva arrivare a un'altra udienza, e in generale, quindi nel caso di interruzione, quindi si doveva portare, c'era un rinvio a un'altra udienza, questi VADES promettevano che il soggetto garantito, per cui prestavano garanzia, si presentava in un'altra data. E anche in questo caso c'era, sei tu VAS, sono VAS. C'era questa domanda, verosimilmente questa domanda e risposta, quindi era sempre un contratto verbale. Ma passiamo avanti, quindi vediamo i contratti letterali. Il contratto letterale era appunto quel contratto fatto per iscritto, documentale, quindi il documento, e in primo luogo abbiamo l'expensilazio. Che cos'è l'expensilazio? L'expensilazio è un particolare particolare forma, fonte di obbligazione, per cui ogni cittadino romano aveva un codice delle entrate e delle uscite, codex accepti et expensi, cioè delle cose prese, accettate, quindi entrate e le uscite, le spese, expensi. In questo codice annotava quindi tutte le entrate tutte le spese giornaliere. E quando il, diciamo, tra le spese inseriva ad esempio che aveva dato 10.000 euro, facciamo in termini attuali, a tizio, nel codice di tizio, codex accepti et expensi, dovremmo trovare nella colonna delle entrate i 10.000 euro che ha dato tizio. E il semplice, diciamo, l'indicazione fatta per iscritto in questo codice portava a una fonte, a un'obbligazione, cioè lui era obbligato giuridicamente a fare, a fare la prestazione, cioè la restituzione della cosa. Voi dite, beh, se uno si sveglia la mattina e inserisce, dici, che ha dato 10.000 euro a tizio, tizio. Che succede? Eh, non ci sta ovviamente nelle entrate, però il fatto che non ci sia nelle entrate non significa niente, perché se io ho avuto ad esempio 10.000 euro a tizio e non lo metto nelle entrate, eh, sono un mascalzone, quindi che succede? Che non glieli devo restituire? No, perché c'è nelle uscite di tizio. Ma se tizio si sveglia, come ho detto, e decide di inserirlo nelle uscite, ovviamente che non c'è corrispondenza nelle entrate del debitore, che succede? Succede che è costretto ad adempiere, per il semplice fatto che è inserito nelle uscite. Voi dite, ma come è possibile? Allora uno si sveglia la mattina appunto e ha bisogno di soldi e mette che ha dato prestato. E certo è un limite, ma una cosa del genere era inconcepibile alle origini di Roma, cioè quando è stato introdotto, secondo alcuni non era dalle origini, ma comunque anticamente a Roma. Era inconcepibile perché si basava tutto sulla fiducia, si conoscevano praticamente tutti, era inconcepibile fare una cosa del genere, l'avrebbero additato tutti come un mascalzone, nessuno gli avrebbe dato fiducia, nessuno gli avrebbe fatto da pres, da vas, di predes evades, quindi da garante, non avrebbero prestato mai nulla. Però è così, questo comportò appunto la decadenza di questo istituto, quando la fiducia piano piano con l'espandersi della cittadinanza di Roma, quindi non si conoscevano più tutti perché era limitata, ma diventano sempre più persone che non si conoscono, quindi Roma si espande, la fiducia viene meno e quindi anche questo punto di obbligazione, quindi questa expensilatio, praticamente perde, va in desuetudine se vogliamo, non viene più utilizzata meglio. E però viene sostituita in realtà, viene sostituita questa expensilatio da un altro contratto letterale, da altri, anzi altri due contratti letterali che hanno origine elleniche e si tratta del chirographum e della singrafa. Il chirographum sono entrambi ai punti documenti, uno è redatto in un unico originale, lasciato al creditore e l'altro invece in due originali, uno al creditore e uno al debitore. E si ritiene che questo documento racchiude, non solo è fonte di obbligazione, ma racchiude in sé addirittura l'obbligazione, nel senso che è anche fonte di prova della costituzione dell'obbligazione, se si distrugge il documento si riteneva che come se si distruggesse anche l'obbligazione, non poteva essere provata per testimoni. Quindi è ponte di obbligazione e nello stesso tempo racchiude il documento l'obbligazione stessa. La differenza sostanziale è che uno è un unico originale lasciato al creditore, che ovviamente era quello più interessato ad avere questo tipo di documento, per ovviamente provare il suo diritto, eventualmente il giudizio, e poi invece la singrafa era in due originali, quindi plurale singrafe, e lasciate uno al creditore e uno al debitore. Questo per quanto è dato appunto i contratti letterali, ma passiamo ai contratti reali. Attenzione, il contratto è detto reale nel senso che si costituisce mediante la res, mediante la consegna della res. Quindi mentre il contratto verbale si costituisce mediante pronunce determinate parole solenni, il contratto letterale si costituisce mediante scrittura, il contratto reale si costituisce mediante consegna della cosa. I contratti reali, tra i contratti reali troviamo il più antico contratto reale, se vogliamo, è la fiducia. La fiducia è un contratto, cioè un negozio mediante il quale un soggetto consegna, trasferisce la proprietà di un bene, e inizialmente, anticamente, l'antica fiducia era un bene, una res emancipi, l'unica res riconosciuta dal diritto delle origini, quindi si trasferisce la proprietà di una res con il patto fiduciario, con il patto tra le parti, che questa res verrà restituita, raggiunto lo scopo per cui si era creata. E perché si era creata? Perché questa fiducia veniva utilizzata in particolare una fiducia cum creditore, nel senso tu creditore mi presti qualcosa del denaro, ad esempio, e però non ti fidi che io te la restituisca, e quindi vuoi un qualcosa che ti garantisca che io adempio, e quindi ad esempio ti trasferisco il cavallo, un cavallo che più o meno vale è quanto mi hai dato, ma col patto fiduciario che se ti restituisco questo denaro, cioè se ti restituisco questo denaro, tu mi restituirai, mi ritrasferirai il cavallo. Un patto fiduciario che, diciamo, offri quindi fiducia cum creditore oppure fiducia cum amico, per cui io ti trasferisco la proprietà di un bene, ma col patto fiduciario lo utilizzi, ma tra uno o due anni me lo dovrai restituire. Ma se uno non lo restituisce, che succede? Anticamente non succedeva nulla, appunto era tutto basato sulla fiducia, per cui se non me lo restituivi te lo tenevi, io non potevo agire, era un essere spreggevole, tutti ti avrebbero additato come un essere spreggevole, ma non si poteva fare nulla. Non si poteva fare nulla, l'unica, diciamo, particolarità è che se riuscivo a impossessarmi della cosa, l'avrei, diciamo, tenuta, sarebbe usucapita nell'arco di un anno, a prescindere dalla buona fede, a prescindere dal fatto se era una cosa immobile o immobile, quindi è una, si chiamava usurecezione, questo su capione particolare, fatta appunto, su recepcio, fatta dal colui che si è visto il patto fiduciario andato in frantumi, praticamente. Però questa fiducia venne poi riconosciuta a una tutela dal pretore, in caso di inottemperanza questa fiducia, ma ormai la fiducia venne in certo qual modo non più utilizzata perché, diciamo, venne sostituita la fiducia cum creditore dal pegno, che è un altro contratto reale che adesso vedrei, e la fiducia cum amico dal al deposito o dal comodato. Quindi il, poi oltre alla fiducia abbiamo il mutuo, sia fiducia sia il mutuo, sono dei contratti reali, quindi si costituiscono mediante la consegna della cosa, che trasferiscono la proprietà del bene, salvo poi ovviamente l'obbligo teoricamente di restituzione. Il mutuo è il prestito di consumo, cioè io ti presto del denaro o cose fungibili, finché tu ne diventi proprietario, quindi le hai e me le dovrai però restituire. Dovrai restituire il altrettanto dello stesso genere, quindi non quella banconota che ti ho dato, quelle banconote che ti ho dato, ma se ti ho dato 1000 euro me ne potrai dare 10 pezzi da 100 o 20 pezzi da 50, l'importante è che arriviamo altrettanto dello stesso genere. Cose fungibili anche, quindi se io ti presto del, diciamo, un sacco di grano, mi dovrai restituire un sacco di grano, ma un sacco di grano della qualità, diciamo, quello che ti ho dato, quindi tantumbe me us dem generis et qualitatis aggiungevano, si aggiunse poi, i giuristi che ci aggiunsero poi, cioè se io ti ho dato un qualcosa, una cosa fungibile che ha una certa qualità, tu non me la puoi dare con la qualità peggiore, ma quantomeno la stessa qualità. Ora, quindi il mutuo è un atto gratuito, per cui io ti presto del denaro e non possiamo stabilire interessi nell'ambito del mutuo, ma se vogliamo stabilire interessi dobbiamo fare un negozio a parte, appunto un'assicolazio, quindi prometti tu di darmi e stabiliamo il, diciamo, gli interessi che mi devi dare annualmente. Ci sono poi, nel corso dei periodi, ci sono stati tanti limiti a questi interessi, i romani chiamavano usure, gli interessi in generale chiamavano usure, mentre noi chiamiamo usura un interesse oltre il limite legale, quindi si poteva stabilire queste usure, quindi questi interessi, mediante stipulazio, ma non mediante un accordo interno al mutuo, quello non valeva, perché il mutuo era gratuito, quindi diventava oneroso solo nel caso in cui si stabiliva una stipulazio a parte, ma il mutuo come negozio a sé era gratuito. Ora, vi era poi un particolare tipo di mutuo che è chiamato fenus nauticum, fenus scritto foenus nauticum, cioè era un mutuo, cosiddetto mutuo marittimo, prestito marittimo, cioè si prestava del denaro o cose fungibili a un soggetto, a un commerciante che avrebbe comprato la merce e con questi soldi avrebbe comprato la merce all'esterno in un altro paese e l'avrebbe poi rivenduta in Roma, o anche la possibilità di comprare la merce qui e vendere a un'altra parte. Quindi un prestito che si faceva a questi commercianti marittimi. Ora, questo prestito aveva una funzione particolare perché era più che altro un finanziamento, cioè io finanziavo un'attività. In che senso? Nel senso che se non andava a buon fine questa attività, perché magari la nave naufragava per una tempesta o i mari erano anche infestati dai pirati, veniva assalita dai pirati e quindi questi beni o il denaro che ho dato, i beni che ha comprato, non c'erano più e allora il commerciante non mi doveva restituire, a me che avevo dato il denaro, non mi doveva restituire questo denaro. Per cui io rischiavo, ma questo rischio comporta anche una contropartita, ovviamente. E qual è la contropartita? La contropartita sono gli interessi, cioè il Fenus Nauticum è un negozio non gratuito, ma oneroso e questi interessi potevano anche andare oltre il limite che si era stabilito di volta in volta, che per un lungo periodo era 12% l'anno, ma si stabiliva addirittura 30, 40, 50%. Quindi io ti ho dato 100 mila euro e se ritorni, quindi se l'operazione va a buon fine, me ne devi dare 150 mila, ci guadagno 50 mila. Ma a te va bene, perché se non dovesse andare a buon fine, tu i 100 mila che ti ho dato non me la restituirai. Se va a buon fine, tu guadagnerai e guadagnerò pure io, ma se non va a buon fine, l'unico che ci rimette, qui sono io. E quindi è un finanziamento, ma cosa evitava che il soggetto al quale avevo dato i soldi tornasse e dicesse, magari fermava prima la nave e dicesse che la nave è stata a salire dai pirati, si sono presi la nave con tutti i beni e quindi non ti devo più nulla. E ovviamente c'era questo rischio. E quindi il finanziatore, colui che aveva dato questo prestito, mandava uno schiavo, di cui ovviamente si fidava, mandava uno schiavo nella nave del soggetto per controllare. Uno schiavo o anche una persona di fiducia, ma di solito uno schiavo, anche perché erano infestati dai pirati, quindi c'era il rischio che comunque venisse ucciso. Quindi, questo, ripeto, questo penus nauticum aveva la peculiarità appunto di essere a titolo non più gratuito, ma oneroso e questi interessi potevano andare anche molto oltre il limite legale. Poi c'è il pegno. Il pegno è appunto un contratto reale, mediante il quale io consegno una cosa a garanzia dell'adempimento, io debitore o chi per me, ma di solito io, a garanzia dell'adempimento, dell'adempimento dell'obbligazione e da qui sorge l'obbligo da parte del creditore di restituirmi la cosa in caso di adempimento. Ma il pegno l'abbiamo trovato, questo si tratta di pignus datum, ma noi abbiamo, l'abbiamo trovato, ce lo troviamo anche a proposito del jure realena, cioè diritti assoluti su cosa altrui, perché il pegno oltre a essere un obbligo, un'obbligazione per cui il creditore si obbliga a restituire la cosa, è anche un diritto assoluto su cosa altrui, per cui il creditore che ha avuto la cosa su questa cosa ha una tutela, erga omnes, nei confronti tutti è un'azione con la quale può agire contro tutti nel caso in cui qualcuno si prenda la cosa, lei dà questo suo diritto di tenere questa cosa a titolo di garanzia e in questo caso il pignus come ius serialena, l'abbiamo trovato anche il pignus conventum chiamato ipoteca, cioè il semplice accordo nel quale la cosa rimane del debitore, ma all'occorrenza in caso di inadempimento il creditore può agire per prendersi la cosa, nel pignus datum il creditore invece già ha la disponibilità della cosa, una disponibilità della cosa che però non significa che la possa usare, perché il creditore che utilizza la cosa, ad esempio io presto un cavallo, cioè do in garanzia, do impegno un cavallo per l'adempimento del mio credito, del mio debito e vedo un giorno che il creditore se ne va bellamente a passeggio con il mio cavallo e non lo può fare, commette furto d'uso in questo caso, un furto d'uso che per i romani era equiparabile a tutti gli effetti a un furto normale, quindi mi avrebbe dovuto dare il doppio del valore della cosa. Ora, o addirittura se lo prendo in fragranza di reato, cioè in fragranza il quadro, quindi il furto manifesto addirittura, quindi non lo può fare perché non può utilizzare perché altrimenti commette furto. Quindi il creditore nel caso in cui c'è l'inadempimento da parte del soggetto, del debitore, non può acquisire la proprietà della cosa, ma la può vendere e soddisfarsi sul ricavato, a meno che non c'è un patto tra le parti, un patto cosiddetto commissorio, che però fu vietato da Costantino perché che cosa succedeva? Succedeva che i creditori, che sono sempre la parte più forte, il debitore che chiede il denaro significa che sta in una condizione di debolezza, che ha bisogno del denaro e farebbe qualunque cosa per averlo e quindi spesso accadeva che il creditore per dare denaro chiedeva impegno qualcosa di un valore molto più elevato col patto commissorio che se non restituiva si prendeva la cosa e quindi avrebbe guadagnato eccessivamente rispetto a quanto gli avesse dato e questo andava contro tutta la disposizione che limitava gli interessi, quindi abbiamo detto 12% eccetera, io mi faccio dare un cavallo che vale due volte tanto il debito che abbiamo contratto, cioè che ha contratto lo soggetto e quindi ci guadagno due volte tanto, cosa che ovviamente non può essere e Costantino rivietò questi patti commissori. Quindi li devo vendere, devo vendere la cosa, soddisfarmi sul ricavato, se c'è qualcosa che va oltre io lo devo dare restituire al debitore, oltre il valore del credito lo devo restituire al debitore. Poi abbiamo il comodato, il comodato è un prestito di uso, il prestito di uso mentre è mutuo a prestito di consumo, qui è il prestito di uso, cioè io consegno, do una cosa a tizio affinché lui la utilizzi e me la restituisca, a una certa data o quando finisce di fare quello per quel quale, per la qualcosa gli ho prestato la cosa. Ad esempio, tizio si deve fare un esame a luglio, gli presto il libro finché non fa l'esame a luglio. Non lo posso chiedere indietro, perché devo permettere l'utilizzo di quella cosa per la cui finalità gliel'ho prestata. Però che succede se io gli presto un qualcosa, ad esempio un cavallo, per andare a Roma? E lui invece, anziché Roma, va oltre e va a Milano. Anche in questo caso commette furto d'uso. Ci ha usato la cosa oltre il consentito, oltre quelli che erano gli accorti. Quindi commette un ladro, a tutti gli effetti, secondo i romani. Il comodato è titolo gratuito, per cui l'unico che ci rimette, cioè l'unico che ci guadagna è il comodatario. E se si stabilisce qualche cosa, qualche, diciamo, un compenso, un qualcosa, un prezzo per l'uso che io ho fatto, non è comodato, ma è locazione. Locazione è qualcosa di diverso, che vedremo tra un attimo. E poi c'è il deposito. Il deposito è un contratto nel quale io do una cosa a tizio affinché la custodisca e me la restituisca, ovviamente, a seconda dei casi, al momento in cui la richiedo o dopo un certo periodo. Quindi, ad esempio, io ho una borsa, devo andare un attimo da una parte, ho questa borsa che mi intraccia e chiedo a una persona di cui, ovviamente, mi fido, che conosco, se mi può guardare la borsa, gli do questa borsa e lui non la può usare, anche perché commetterebbe anche questo caso furtoduso. Non la può usare, la deve guardare e la deve restituire quando gli la richiede. Questo deposito, abbiamo delle forme di deposito particolari, che sono il deposito, sono tre le forme di deposito particolari. Il deposito in sequestrem, il deposito necessario e il deposito irregolare. Il deposito in sequestrem è un deposito di una cosa, oggetto di controversia, che viene affidato a un terzo, al cosiddetto sequestratario. La particolarità è che il sequestratario dovrà restituire la cosa solo, non a chi gliela data, come avviene nel deposito normale, ma a chi vince la causa, che può essere anche la controparte. Poi c'è il deposito, quindi questo è in sequestrem, poi c'è il deposito irregolare. Il deposito irregolare è un deposito che ha ad oggetto cose fungibili, per cui vengono date queste cose fungibili, in particolare il denaro, ma anche altre cose fungibili, e il depositario dovrà restituire non quel denaro, quel banconote, ma dovrà restituire altrettanto dello stesso genere. E rispetto al mutuo, per cui anche nel mutuo io do delle cose fungibili, in particolare il denaro, ma anche altre cose fungibili, e dovranno essere restituite altrettanto dello stesso genere. La differenza sta nella causa, una è prestito e l'altra è il deposito, quindi la custodia, e questa è la prima differenza, la fondamentale differenza. E l'altra è chi ha maggiore interesse, normalmente chi ha maggiore interesse nell'atto, nel mutuo il maggiore interesse ce l'ha il mutuario, cioè colui che riceve il denaro, il debitore. Maggiore interesse nel deposito ce l'ha invece il depositante, perché io anziché tenere a casa questo denaro che potrebbero venire ladri e rubarselo, perché io devo andare fuori città, lo consegno a una persona di fiducia, che so che ha una casa sorvegliata, o addirittura un banchiere, quindi un argentario, e gliela consegno questa cosa, ma queste cose fungibili lui mi dovrà restituire altrettanto dello stesso genere, cioè le può usare, ne diventa proprietario, l'importante è che me ne restituisca altrettanto di quello che gli ho dato. Gli ho dato 10.000 euro e non voglio quelle banconote, voglio 10.000 euro. E quindi li può usare, ne diventa proprietario del debitore, ma dovrà restituire, intanto un demius demigenesis. La differenza fondamentale, ripeto, rispetto al mutuo, sta nella causa, uno è il prestito, uno è il deposito, e quindi è la custodia, e sta nell'interesse maggiore, uno ce l'ha colui che riceve il solde, uno e l'altro ce l'ha, chi dà il denaro. E poi c'è il deposito necessario. Il deposito necessario è un deposito in cui io sono costretto, quindi necessario, sono costretto a dare qualcosa a qualcuno, perché ad esempio in una mafragio c'è tizio che sta in una zattera, io ho un borsone e sto per affogare e lo consegno questo borsone a quello che sta nella zattera, dicendo se me lo posso dire, e se non me lo restituisce sarà condannato a doppio. Un po' perché io non ho scelto, non ho avuto la possibilità di scegliermi una persona di fiducia, quindi sono stato costretto, quindi nel caso in cui io scelgo una persona e non me la restituisce, il problema è anche un po' mio, perché mi sono fidato da una persona che non degna. Ma quando sono costretto a farlo, io non posso scegliere, quindi non ho nessuna responsabilità nella scelta e tu ti stai, sono costretto a darti fiducia e tu, che non restituisci la cosa, stai vedendo la fiducia che sono costretto a darti. In certo qual modo quindi c'è questo doppio, la responsabilità del doppio nel caso in cui, ripeto, questo soggetto a cui io sono stato costretto a dare la cosa non me la restituisca. Questi sono i contratti reali, poi ci sono i contratti consensuali. I contratti consensuali, vado molto velocemente perché avrebbero bisogno ciascuno di una lezione addirittura, o quantomeno sicuramente non tutti insieme nell'ambito delle fonti delle obbligazioni, quindi facciamo una sintesi molto veloce per andare avanti a vedere altre fonti delle obbligazioni. Quindi i contratti consensuali sono quei contratti per cui è semplice, occorre, è necessario, è sufficiente, è semplice consenso, quindi in qualunque modo manifestato. E sono queste obbligazioni consensuali, questi contratti consensuali hanno una tutela mediante i giudici a buone fidei, cioè sono contratti, sono una tutela, sono giudizi mediante azioni di buona fede, per cui il giudice dovrà valutare la buona fede delle parti e condannare secondo la buona fede, quindi deve valutare un po' il comportamento, diciamo, delle parti. E hanno come caratteristica il fatto di essere meramente obbligatori questi contratti, cioè non fanno scaturire diritti reali, ma solo obbligazioni. E sono dei contratti nei quali c'è una corrispettività delle prestazioni, cioè sono cosiddetti sinallagmatici questi contratti, cioè c'è il sinallagma, c'è questa unione, sono strettamente unite le prestazioni delle parti, quindi sono negozi bilaterali. Quindi ciascuna parte effettuerà una prestazione. E quali sono? Quindi sono la compravendita, quindi l'empsio vendizio, la locatio conduzio, cioè la locazione, il mandato, mandatum e la societas, società. La compravendita è, diciamo, in quel contratto in cui il venditore, il soggetto quindi il venditore, si obbliga a trasferire la cosa, il compratore il quale si obbliga a pagarne il prezzo. L'obbligo del venditore non è l'obbligo di, in realtà, di trasferire la proprietà della cosa, perché il venditore potrebbe anche non essere proprietario, ma l'obbligo del venditore è quello di consegnare la cosa e assicurare il pacifico condimento della cosa. L'obbligo del compratore è quello di pagare il prezzo. Il prezzo in denaro. Il venditore poi si obbliga a garantire, cioè deve garantire l'evizione, cioè se il compratore viene chiamato in giudizio da una terza persona quale vanta di essere, pretende di essere, dichiara di essere lui il proprietario e soccombe il compratore, il venditore deve pagare il doppio del prezzo. Però per far valere questa responsabilità il compratore deve, ovviamente, informare subito il venditore perché il venditore può far valere le sue ragioni. Cioè il terzo agisce contro il compratore dicendo di essere lui il proprietario, ma il venditore chiamato in causa potrebbe dire sì eri tu il proprietario ma nel frattempo me l'hai venduto, eri un tempo il proprietario. Qua c'è il documento, ci sono testimoni, oppure eri il proprietario ma nel frattempo lo sono capito. Ma se tu, io non lo so, non posso far valere le due ragioni. Tu acquirente non sai quello che è successo, non sai le vicissitudini, non sai le mie pretese. Quindi mi devi informare e io poi faccio valere questa responsabilità. E se non mi informi, no, sono problemi tuoi, il doppio prezzo non lo pago. E poi devi garantire i vizi della cosa. I vizi della cosa, per cui se la cosa ti ho venduto un cavallo che è malato, magari lo sapevo pure, ma anche se non lo sapevo, comunque devo garantirti questa cosa. Quindi tu hai o l'azione di restituzione, quindi l'azio redibitore, io mi devo riprendere il cavallo e ti restituisco il prezzo, oppure l'azio quanti minoris, cioè una riduzione del prezzo in base a quello che è il vizio. Cioè si riduce il valore della cosa perché presento un vizio, ti ho dato uno schiavo che in realtà non vede da un occhio, ad esempio, e il valore dello schiavo si riduce. Ora, ma passiamo avanti, passiamo avanti, passiamo alla locazione. La locazione, locazio conduzio, abbiamo tre tipi di locazione, quella più diffusa, quella è la locazio rei, per cui io mi obbligo a metterti a disposizione, a farti usare una cosa e tu ti obbligi a pagare un canone periodico, mi paghi quest'uso che fai della cosa. E il locazio operarum invece è il locatore, mette a disposizione non una cosa ma la propria attività lavorativa e il conduttore paga questa attività lavorativa. Ad esempio io ho un giardiniere, pago 80 euro al giorno, la sua attività lavorativa. La locazio operis invece era particolare, per cui il locatore metteva a disposizione una cosa per farla lavorare al conduttore e il locatore pagava il conduttore per questa lavorazione che aveva fatto. Ad esempio il caso di io ho un abito che si deve lavare, lo porto dal fullo, cioè dal lavandaio, il quale appunto ci lavora e me la pulisce e io pago questa attività che ha fatto. Non pago il periodo di attività, la durata della sua attività, io pago il lavoro finito. Quindi se non fa il lavoro che ci può mettere anche un anno, ma io non lo pago perché non ha svolto il lavoro per cui io pago. Locatio operis. Quindi la locatio operis la particolarità è che il locatore era il locatore a pagare il conduttore per l'attività lavorativa sulla cosa che io ho dato. Poi c'è il mandato. Il mandato è un incarico che un soggetto conferisce ad un'altra persona che ovviamente deve accettare di svolgere un'attività. Nell'interesse può essere del mandante o di un terzo o del mandato del mandatario, non può essere esclusivamente del mandatario, non vale. Un mandato per cui l'interesse è esclusivamente del mandatario, questo non vale. Il mandato è titolo gratuito in diritto romano, in diritto attuale invece è naturalmente oneroso, può essere anche gratuito, ma può anche diciamo normalmente oneroso, in diritto romano invece è solo, gratuito. Qui io do l'incarico a Tizio di andarmi a comprare un libro, ovviamente io ho degli obblighi, cioè quello di rimborsargli le spese, quello di recepire ovviamente quello che ha, l'attività che ha fatto, prendermi ovviamente, prendere quell'attività, tutta la responsabilità di quell'attività che ha fatto e poi di eventualmente risarcire i danni strettamente legati all'attività. Quindi se io per esempio gli dico di andare a comprare un libro in una libreria in un posto malfamato e lui ci va, al suo malgrado, per farmi un piacere, ci va e subisce un furto e altrimenti lui non ci sarebbe mandato, io devo risarcire anche il furto che ha fatto, perché è strettamente legata all'attività che gli ho detto di fare, ma se lui per andare a una libreria fa una scorciatoia in un posto malfamato, ma poteva andare tranquillamente a un'altra parte e viene derubato, io quello non lo pago, perché non è strettamente legato all'attività che è stata chiesa di fare. E quindi c'è un obbligo da parte del mandatario che è quello di effettuare la prestazione appunto per cui l'incarico e di riversare gli effetti di questo incarico, di questa attività che ha fatto, quindi nel caso del libro mi deve dare il libro e da parte mia, da parte quindi del mandante c'è l'obbligo, ripeto, di rimborsare le spese e risarcire eventuali danni, ottenuti strettamente collegate all'attività richiesta. Poi c'è un particolare tipo di mandato, il mandato di credito, cioè un mandato di credito in cui il mandante dà incarico al mandatario di prestare del denaro o quantità di cose fungibili, in particolare del denaro, di fare un mutuo ad un terzo, quindi io do l'incarico al mandatario di fare un mutuo ad un terzo e questo mandato di credito aveva funzione di garanzia, perché? Perché il mandatario fa un mutuo a un terzo e se questo terzo non paga, non restituisce il denaro, questo mandatario ha l'azione contro il mutuatario, ha l'azione appunto dell'azio certe credite pecunie, cioè l'azione da mutuo, ma ha anche un'azione contro di me che è l'azio mandati contraria, la diretta tra mandante e mandatario nel caso in cui non svolge l'incarico, la contraria è nel caso in cui il mandatario ha subito delle spese, ha avuto delle spese, ha avuto dei danni e chiede al rimborso di risarcimento. E in questo caso lui ha fatto un qualcosa che gli ho chiesto, ha prestato 10.000 euro a Sempronio, Sempronio non gliel'ha restituita e quindi ha avuto una spesa di 10.000 euro e quindi me la può chiedere a me con l'azio mandati contraria. E quindi io devo dare, garantisco che questa persona, ovviamente mia amica, garantisca, conoscente, la conosco, garantisco che venga restituita. Quindi devo pagare, se non paga lui, pago io a questo mandatario e nel momento in cui pago mi faccio cedere le azioni che ha, la quest'azio certe credite pecuni, così con questa azione posso agire contro il terzo. Questo mandato di credito venne riconosciuto valido solo dopo una lunga vicissitudine, solo nel primo secolo dopo Cristo. Ora, e poi abbiamo la societas, il quarto contratto è la societas, cioè la società. La societas è quel contratto mediante il quale due o più soggetti mettono a disposizione dei beni o della propria attività lavorativa, mettono a disposizione comune per svolgere un'attività in comune e per ripartirsi utile perdita. E quindi si mette in società in particolare perché altrimenti da soli non riuscirebbero a fare una determinata attività, o perché non hanno denaro a sufficienza, o perché non hanno competenze. Ad esempio voglio aprire un ristorante, io ho il denaro ma non sono uno chef, tu sei chef, metti a disposizione la tua attività lavorativa, facciamo una società, tu metti a disposizione attività lavorativa e io ci metto il capitale. E ovviamente bisogna che ci sia una ripartizione di utili e perdite, non è possibile la cosiddetta società leonina, per cui uno ha tutto, fa la parte leone, ha tutti gli utili e l'altro no, bisogna magari una ripartizione anche non uguale, ma comunque bisogna fare una ripartizione di utili e di perdite. E questa società poteva ovviamente andava, cessava nel momento in cui uno dei soci morisse e quindi cessava perché era strettamente, anche se erano tre, era strettamente legata a tutte le persone, diciamo la società. Quindi mandato, quindi compravendio, locazione, mandato e società, i quattro contratti. Al di fuori di questi quattro contratti, secondo i sabiniani non ci potevano essere altri, secondo la scuola dei sabiniani, una scuola, diciamo, dei giuristi nel primo secolo dopo Cristo, primo secondo secolo dopo Cristo, si divisero fondamentalmente in due scuole, quella che fa capo a Sabino o i sabiniani e quella che fa capo a Proculo o i proculiani. E tra sabiniani e proculiani spesso avevano divergenze di opinioni, quel cosiddetto ius controversum. E secondo i sabiniani i contratti consensuali erano solo quei quattro, per cui o si rientrava in questi quattro o niente, non si aveva tutela, mentre per i proculiani i contratti c'erano quei quattro più tanti altri degni di tutela e in questo caso l'azione era un'azione generale chiamata l'axio prescriptis verbis. Quindi per i proculiani qualunque tipo di contratto, per cui le parti si obbligavano, si impegnavano a fare una prestazione reciproca, cioè io un soggetto e l'altro facevano le prestazioni e era tutelabile mediante quest'axio prescriptis verbis. In particolare la questione era soprattutto per la cosiddetta permuta, cioè io ti do uno schiavo e tu mi dai il cavallo. Secondo i sabiniani, poiché la permuta era un negozio che si svolgeva frequentemente, secondo i sabiniani la permuta necessariamente per avere tutela doveva rientrare nella compravendita, ma i proculiani c'è una compravendita, c'è uno che è il venditore e uno è il compratore, qui chi è il venditore e chi è il compratore? Quindi il prezzo in questo caso non è in denaro ma è un oggetto, ma chi è il compratore e chi è il venditore? Chi è che agisce con l'axio venditi e chi è che agisce con l'axio empty? E quindi secondo i proculiani non c'è bisogno di farla rientrare nella compravendita perché la permuta è un contratto a sé, quindi va tutelato come contratto a sé. I sabiniani invece no, solo quei quattro. I proculiani no, quei quattro più. E chi prevalse? Prevalse una tesi diciamo intermedia se vogliamo, quella di Aristone, un altro giurista. Quindi che sabidi Aristone? Sabidi che, e questa è la tesi che prevalse, che vi sono quei quattro contratti civilistici, quindi quelli che abbiamo visto, ma se ne possono creare tanti altri, però per avere giuridicamente, diciamo, per essere tutelabili giuridicamente, una delle parti deve effettuare la sua prestazione. Per cui in caso di permuta, ad esempio, io ti do il cavallo e tu mi dai lo schiavo, se rimane così io non posso agire contro tizio per avere il cavallo, ma devo fare prima la mia prestazione. Una volta fatta che uno dei due ha fatto la sua prestazione, può agire contro l'altro affinché lui faccia la sua prestazione richiesta. Quindi io ti ho dato il cavallo, ora mi devi dare lo schiavo. Quindi se uno dei due non effettua la sua prestazione, non può chiedere la controprestazione, ma una volta che effettua la sua prestazione, può chiedere giuridicamente la sua controprestazione. Oppure può anche decidere, ma non è ovviamente probabile, può decidere di, vabbè, non la voglio più la controprestazione, ma voglio indietro il cavallo, ma questo lo può fare tranquillamente. Ma il problema è che lui magari vuole la controprestazione, perché altrimenti non avrebbe senso l'accordo fatto. Per cui questo accordo vale, è giuridicamente rilevante, solo se di in quanto una delle parti fare le prestazioni. E quindi in questo caso non sono le obbligazioni che sono cosiddette reciproche, cioè un'obbligazione legata all'altra, sono due persone, due soggetti che hanno un obbligo di, ma è un unico soggetto quello obbligato, perché io ho già fatto la mia prestazione, la devi fare, ora la devi fare tu, quindi è un unico soggetto che è obbligato. Però sono le prestazioni che sono reciproche, non le obbligazioni che sono reciproche, cioè non ci sono degli obblighi da una parte e dall'altra, ma nasce l'obbligo solo se io effetto la prestazione, quindi nasce solo da una parte. Però io ho fatto la mia prestazione e tu fai la tua, quindi le prestazioni sono di entrambe le parti, sono reciproche, ma non le obbligazioni. Le obbligazioni sono per quei quattro contratti consensuali che abbiamo visto. E questi contratti vengono chiamati convenziones, sine nomine, o contratti nominati, perché può essere qualunque contratto, cioè io ti do una cosa affinché tu dia, do ut des, o ti do una cosa affinché tu faccia, do ut fascias, o ti faccio una cosa affinché tu faccia, do ut fascias, do ut fascias, faccio ut des, faccio ut fascias. E questi contratti possono essere di qualunque tipo, però ovviamente col passare il tempo alcuni acquisiscono un nome, anche in particolare il primo ovviamente è la permuta, ma vengono comunque definiti contratti, sì, convenzione, se sine nomine o contratti nominati. Ora andiamo avanti, quindi abbiamo questi contratti atti leciti e poi vi sono gli atti illeciti, cioè i delitti. Gli atti illeciti, i delitti, diciamo, civilistici, chiamati così sono il furto, quindi questa sottrazione, diciamo, clandestina della cosa, l'ignuria, cioè l'offesa fisica, inizialmente la fisica, la rapina, cioè il furto con violenza, e il damnum inuria datum, cioè il danneggiamento. Ingiusto. Ora, il furto, quindi sottrazione clandestina della cosa, viene sanzionato addirittura con la morte in alcuni casi, cioè il ladro poteva essere ucciso se colto in fragranza di reato di notte, oppure se si difendeva con le armi, e altrimenti, quindi, nel caso di furto manifesto, veniva inizialmente assoggettato, quindi si portava in anzio al magistrato, veniva, si procedeva all'addictio, cioè diventava addictus della vittima. E poi questa, diciamo, addictio viene sostituita all'azione in quadruplum, per il furto manifesto, furto nec manifesto, cioè non colto la granza dell'illecito, l'azione era in dubbio. Un, ovviamente vi dirò, diciamo, esporò per sommi capi, perché ovviamente il tempo è molto breve, facciamo una carrellata, diciamo così, dei vari istituti. Abbiamo poi l'ignuria, che è l'offesa inizialmente fisica, che era divisa in tre, diciamo, tipologie, che è il membrum ruptum, cioè l'offesa più grave, per cui io ti rendo inutilizzabile, o te lo addirittura asporto, ti tolgo un arto, e, ad esempio, un braccio. In questo caso, la pena, la sanzione è la legge del taglione, l'applicazione della legge del taglione, c'è tu che mi hai tolto un braccio e io ti tolgo il tuo, se non ci mettiamo d'accordo mediante un patto. E poi abbiamo l'ignuria, cioè abbiamo lo sfractum, cioè non l'asportazione o l'inutilizzabilità di un arto, ma la rottura di un osso, che poi si aggiusta. In questo caso la pena è 300 assi per un uomo libero e 150 nel caso di schiava. Poi c'è l'ignuria simplex, cioè l'ignuria simplex è uno schiappo, un pugno, che è 25 assi. Queste pene fisse, ovviamente, con il passare del tempo, con l'inflazione, diventano estremamente basse come valore, per cui fu sostituita dal axio in uriarium del pretore, per cui c'è un'azione per cui il pretore bisogna valutare caso per caso il valore della condanna. Poi abbiamo la rapina. La rapina è il furto a cui si unisce in realtà, fu introdotta dal pretore, anche se viene comunque considerato un delitto civilistico, perché diciamo che è come se fosse un furto aggravato, cioè un furto più la violenza e il furto ovviamente civilistico. E la pena era il quadruplum, come il furto manifesto. E poi c'è il damnum in uria datum, cioè il danneggiamento ingiusto, un danno dato in uria, cioè contro il diritto, quindi ingiusto. E questo damnum in uria datum fu sanzionato dall'ex aquilia, una lex aquilia che è divisa in tre capitoli. Il primo sanziona l'uccisione di uno schiavo, di un, diciamo, un animale quadrupede, un animale quindi, ad esempio, da bestiame. E la pena era il maggior valore che aveva assunto lo schiavo, l'animale, nell'anno precedente. Il maggior valore che avesse ha assunto l'anno precedente, perché ovviamente ci sono oscillazioni di mercato a seconda dei periodi. Quindi, ad esempio, l'agnello, il periodo di Pasqua, costa molto di più rispetto a altri periodi. Quindi ci sono delle oscillazioni di mercato. Per cui, se io uccido un animale che da qualche mese avrebbe raggiunto un valore maggiore, non posso sanzionarlo con un valore attuale, perché magari il soggetto avrebbe aspettato per venderlo quel valore maggiore. E poi è una sanzione, diciamo, è una sanzione particolare perché ovviamente nel caso in cui l'animale o lo schiavo che viene ucciso era ferito e si era ferito durante l'anno, quindi si abbassava il valore e il valore era comunque quello dell'anno precedente. Quindi era possibile che se avesse un valore, la sanzione fosse molto maggiore rispetto al valore effettivo al momento della morte. Ma è un illecito, quindi ci sta, quindi perché la finalità è quella di far pagare una pena, non quella di un ristoro economico. Il terzo capitolo, trasciando un attimo e il ferimento degli animali da bestiame e dello schiavo. E la sanzione è la distruzione di tutte le altre cose. E la sanzione è quella del maggior valore che avevano raggiunto gli animali, lo schiavo e le cose nei 30 giorni precedenti. Quindi non un anno ma 30 giorni. Quindi uccisione un anno e ferimento o distruzione di cose o uccisione di altri animali 30 giorni prima. E poi c'è il secondo capitolo che dice Gario che va in desuetudine, che è andato in desuetudine, perché l'Alex Aquila stiamo intorno al secondo secolo avanti Cristo, non si sa bene precisamente quando, insomma, più o meno secondo secolo, inizio secondo. E questa Alexa, o addirittura terzo secolo avanti Cristo, insomma, a seconda dei periodi, alcuni a fine secondo la considerano, ma orientativamente inizio secondo secolo avanti Cristo. E l'Alex, il secondo capitolo stabilisce, stabiliva che, diciamo, l'ad stipulator, cioè il creditore aggiunto, nel caso in cui avesse in frode al creditore, avesse estinto il debito, nei confronti del debitore, sarebbe stato condannato al pagamento del debito. Cioè, il creditore spesso si aggiungeva, faceva aggiungere un altro creditore, quindi una persona di cui si fidava, perché magari stava, andava fuori, c'era bisogno di agire magari anche in giudizio contro il debitore per avere il denaro e per cui si faceva promettere sia a se stesso, sia a questa terza persona in quale avrebbe potuto agire in giudizio. Però che succede? Che questa terza persona, in frode al creditore, mettendosi d'accordo magari col debitore, rimetteva il debito, cioè estingueva senza prendersi i soldi e il creditore non poteva più agire perché il debito era estinto e quindi poteva agire con questa azione contro il creditore aggiunto. Oppure, secondo alcuni, anche nel caso in cui il creditore aggiunto avesse preso il denaro e non l'avesse riversato, al creditore effettivo. E questa va in destitutine perché con il riconoscimento dell'azio mandati che abbiamo intorno al secondo secolo, durante il secondo secolo avanti Cristo, non c'era più bisogno di questa azione. Non c'era più bisogno perché il creditore aggiunto diventa creditore aggiunto in virtù di un incarico che gli è stato fornito dal creditore principale e per cui se non rispetti l'incarico, cioè quello di riversarmi poi i soldi eventualmente, il denaro, la prestazione eventualmente del debitore, io agisco con l'azio mandato perché tu non hai rispettato l'incarico, non c'è bisogno di questa legislazione. Ecco perché questa legislazione verosimilmente è precedente al riconoscimento, sicuramente è precedente al riconoscimento del mandato e il mandato è stato riconosciuto intorno al secondo secolo, quindi inizio o inizio secondo o addirittura terzo secolo, fine terzo secolo avanti Cristo, fu emanata questa legge. Ci sono tutta una serie di evoluzioni che ha avuto questa ex aquilia, la sanzione del danno in uradatum, ma andiamo avanti, in virtù di quello che vi ho detto facciamo una carrellata di questi istituti molto sinteticamente e quindi abbiamo questi quattro delitti civili, atti civilistici e i contratti, atti illeciti l'uno, atti illeciti l'altro, perché Gaio utilizza nelle istituzioni quella che è una definizione più antica del contratto come atto lecito, però che cosa succede? Succede che un'altra opera di Gaio, l'ERES quotidiane, un'opera più piccola rispetto alle istituzioni è un'opera per i pratici più che per i studenti, nell'ERES quotidiane fa una tripartizione delle fonti dell'obbligazione, Gaio ci dice che le obbligazioni possono derivare da contratti, da maleficia, cioè delitti e dalle varie figure causarum, cioè da varie figure di causa, altre figure, altre cause. Perché? Perché accoglie nell'ERES quotidiane, accoglie la definizione di contratto che viene data da un altro giurista, cioè Pedio, cioè Pedio dice che non c'è contratto, non c'è l'obbligazione che non abbia in sé una convenzione, un accordo, cioè il contratto anzi è un accordo. Nel contratto reale io ti consegno una cosa affinché per esempio la utilizzi, me la restituisca, quindi c'è un accordo, quindi c'è sempre un accordo. E quindi in questo caso viene esclusa, vengono esclusi quegli atti liciti che non presentano in sé l'accordo, ma che fanno scaturire obbligazioni, ad esempio la soluzione in debiti. Nella soluzione in debiti, soluzione cioè adempimento dell'indebito, cioè di un debito che non c'è, cioè se io pago adempio un debito che non ho. Cioè ad esempio vado da tizio e dico questi sono i 100 euro che ti devo, ma in realtà gliel'avevo già restituiti, quindi non c'è un debito. E tizio magari distratto se riprende perché non si ricordava effettivamente che l'avessi restituito, restituiti i soldi, e in questo caso non c'è accordo all'obbligazione, perché scatta immediatamente l'obbligo di restituzione, perché tu non hai una giusta causa per tenerti questi soldi, non c'è il debito. E non c'è accordo, perché l'accordo limite è per l'estinzione dell'obbligazione, non per la costituzione dell'obbligazione. E quindi me la devi restituire, quindi scatta l'obbligo di restituzione sulla base di un atto lecito, perché io ho pagato adempiuto lecitamente, ma certo non è il lecito, ma non c'è l'accordo. E quindi non si può parlare di contratto, perché ormai questa definizione di pedio di contratto, che è anzi una convenzione, un accordo comincia a diffondersi. E quindi la soluzione in debiti appunto rientra in questi casi, varie figure di causa, come rientra anche ad esempio la negozione, un gestio, gestione di negozi altrui. Cioè io, senza aver avuto incarico, mi faccio carico di svolgere un'attività, un affare di un terzo, nell'interesse del terzo. Ad esempio tizio, mio vicino di casa, se ne va e ha lasciato il cane in cortile, passa un giorno, passano due, questo cane è disperato e io incomincio a dargli da mangiare. Perché? Perché sto facendo un affare di un altro, anche senza avere un incarico. E questo affare è utile per il vicino. E quindi io mi sono preso questo incarico e lo devo portare a termine. Sono obbligato, come è obbligato il mio vicino a rimborsarmi le spese che ho fatto. E quindi sorgono degli obblighi, delle obbligazioni sulla base di un non consenso, non accordo. Per definizione la riduzione del gestio è un negozio che non ha l'incarno, non c'è l'incarno, non c'è l'accordo che altrimenti sarebbe mandato. E così come è anche legato per Damnazionem, nomino tizio erede e gli dico di dare 10.000 euro a Caio. E Caio ovviamente agirà contro l'erede per avere 16.000, ma l'erede è obbligato, ma che consenso c'è stato per questo obbligo? Magari l'erede è un erede necessario, un figlio, quindi non può neanche rinunciare. Ma anche se non fosse, l'accordo dovrebbe essere tra lui e il debitore, cioè il creditore, cioè il legatario, cosa che non c'è, non c'è affatto. E quindi tutti questi casi in cui non c'è l'accordo si fanno rientrare in queste varie figure di causa, in questo terzo genus, questo terzo genere di fonti di obbligazione, così come si fanno rientrare anche quei delitti che non sono i delitti civilistici, ma sono quei delitti quindi tipici dello giusto civile, ma sono dei delitti introdotti dal pretore. E come ad esempio il lefusum vel deiectum, cioè il versare liquidi vel deiectum, o il getto deiectum, il getto di solidi da un balcone ad esempio, che colpiscono, che fanno un danno al passante. In questo caso il passante vede che c'è un balcone, ma non sa chi l'ha gettato, e il responsabile è l'habitator, cioè colui che abita. E a seconda dei casi poi c'è una sanzione particolare, a seconda se uscite o distrugge la cosa. E questo, come anche altri, sono dei delitti, degli illeciti che non rientrano in quei quattro, perché i delitti sono solo quei quattro. Così come i contratti sono solo quelli che hanno un seno a convenzione, i delitti, secondo R.S., sono solo i delitti civilistici, gli altri sono qualcosa di diverso. Le fa entrare nelle varie figure di causa, quindi queste cause appunto in cui sono presenti, leciti o illeciti. Quindi abbiamo una tripartizione delle fonti delle obbligazioni in Gaio, nelle res quotidiane, quindi quest'opera di Gaio. E poi Giustiniano nelle sue istituzioni, che riprendono ovviamente e diciamo aggiorna le istituzioni di Gaio, fa una quadripartizione delle fonti delle obbligazioni. Vediamo che le obbligazioni derivano o da contratto o da malefici, quindi da delitti, o da quasi contratti o quasi malefici, cioè quasi delitti. Quindi contratti, quasi contratti, malefici o delitti e quasi malefici o quasi delitti. Quadripartizione, quindi i contratti sono quelli consensuali, i delitti sono quelli civilistici, i quasi contratti sono quelli, gli atti leciti che Gaio fa rientrare nel, far rientrare appunto nelle varie figure causarum, i delitti sono appunto i civilistici, i quattro delitti civilistici, Fulto, Inuria, Damanum, Mineradatum e Rapina e i quasi delitti sono quegli illeciti che Gaio fa rientrare sempre nelle varie figure causarum, cioè Scind, quelle che sono le varie figure causarum, appunto, a seconda che siano atti leciti o atti illeciti, gli atti leciti quasi contratti, gli atti leciti quasi delitti. Quindi una quadripartizione abbiamo delle fonti delle obbligazioni. Quindi, ricapitolando un attimo, Gaio ci fornisce una bipartizione nelle sue istituzioni delle fonti delle obbligazioni e ci dice che derivano o da contratti o da delitti, intendendo per contratti quella che è la definizione forse più antica del contratto, cioè dell'atto lecito. E i delitti è l'atto illecito. Quindi o da atto lecito o da atto illecito. L'atto lecito può essere, appunto, a seconda dei casi, questo contratto può essere verbal, letterale, reale e consensuale. E i delitti sono quei quattro dei ritti civilistici, c'è Furto e Neuria, che sono i più antichi, previsti anche prima delle 12 tavole, la rapina e il Damno e Miniora Dato. E queste sono le istituzioni. Per quanto riguarda invece le res quotidiane, questa opera che è attribuita a Gaio, alcuni hanno dei dubbi sulla genuinità dell'opera, cioè che alcuni ritengono che non sia di Gaio, ma l'opinione dominante la ritiene di Gaio, un'operetta più breve delle istituzioni in cui è fatta per i pratici, per gli avvocati, non per gli studenti. E qui accoglie la definizione di Paio, se vogliamo, dei contratti, cioè che ogni contratto ha in sé una convenzione e quindi riconosce come contratti solo quelli che hanno in sé una convenzione. E mentre quelli che non hanno in sé una convenzione li considera far entrare nelle varie figure causarum e nei delitti li considera solo quelli civilistici, mentre gli altri delitti riconosciuti e altri illeciti riconosciuti dal pretore li far entrare nelle varie figure causarum. Quindi è un calderone, i varie figure causarum, i leciti e illeciti. Mentre con Giussiniano abbiamo definitivamente una quadripartizione delle fonti di obbligazione, delitti, cioè contratti, quasi contratti, che sarebbero gli atti leciti che non hanno in sé una convenzione, delitti, che sono quelli civilistici, quasi delitti, che sono quelli, diciamo, gli illeciti che non rientrano, che non sono i quattro, che non rientrano nei quattro civilistici. Quindi finiamola qui, abbiamo visto quindi queste fonti delle obbligazioni come vengono considerate, diciamo, nel corso del tempo, queste fonti vengono modificate, queste fonti delle obbligazioni. Grazie, arrivederci.